Ma buon salve a tutti, oggi siamo tornati con una reaction, una challenge, una compilation di video come lo volete chiamare voi, basta leggere il titolo per capire cosa andiamo a vedere quest'oggi niente proprio di meno che dei video che raggruppano tutto il dolore è una specie di prova a non provare dolore, non so ne vedremo delle belle secondo me, immagino già le cose classiche, cose che ci fanno incazzare cose che ci fanno irritare, quindi anche un prova a non incazzarti challenge, tra virgolette e prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bellissimo like, di iscriversi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirmi su tutti i social possibili ed immaginabili, mi raccomando seguitemi ovunque detto questo direi di iniziare, ho scelto 2-3 compilation, dipende dalla durata non saprei sinceramente, dipende da quanto dura questo video ecco, iniziamo col primo, vediamo un po', ok, ecco, questo, questo mamma mia iniziamo benissimo, quante volte mi è capitato di sbattere il piede contro una sedia o un mobile e fa un male, soprattutto scalzo, questo mi fa incazzare quando non riesce a prendere delle cose no, questo, meno male che non lo faccio più, scleravo ah vabbè questo può succedere, non mi fa tanto incazzare, quello mi fa un po' irritare oddio, capelli in bocca, no che schifo, e mi capita spesso ah, quando vuoi fare la colazione perfetta, ma il biscotto cade no, questo non mi è mai successo, dai, questo non mi è mai successo, non sono così imbecila da metterci un piede sopra una presa questo non mi è mai successo, almeno, o forse mi sarà successo ma non ho sentito un cavolo di dolore no, no, questa è brutta vabbè questo ancora ancora, quando ci sono le fotocamere digitali, i telefoni, si può risolvere rifai la foto, è perfetto, lo puoi fare nello stesso momento la cosa più brutta era con le fotocamere, quelle con i rullini che tu pensavi di aver fatto la foto precisa, perfetta, vai a svilupparla e vedi sto dito enorme sopra l'obiettivo che lì ti fa incazzare, quella è la cosa più, non dolorosa, incazzosa ah, vabbè, questo è capitato no, questo no, dai questo no, dai ah, vado, quante volte mi è capitato che Google mi diceva, durante le ricerche eh, ammetti che non sia un robot, perché stiamo vedendo troppa navigazione da questo indirizzo IP ma vai a cagare Google, vai a cagare ah, questo è capitato, però non a questi livelli no, questo mi fa incazzare quando mi succede, soprattutto quando vedo le live su Twitch mi capita spesso che si imblocca e Gesù Cristo bestemmio tutti gli santi beh, a questo livello non sono mai arrivato questo mai successo? vabbè, questo a me piace farlo in realtà questo si è scleroso, questo è scleroso mamma mia, quando mi fa incazzare sta roba cioè tu apri il vassoio che ne so, o del budino o dello yogurt e ti ritrovi ogni volta ad aprirlo male, male quella cosa bella, mi ha scoperto che lo fanno apposta secondo me lo fanno apposta a mettere dei punti sensibili del genere nell'apertura di queste cose perché mi è successo che stavo aprendo il budino, stavo seguendo bene la linea velo preciso, perfetto, piano piano e ta, si è sminchiato tutto, si è aperto la cazzo di cane cioè è fatta apposta per aprirsi a cazzo di cane no, questo non mi è mai capitato, non butto mai il cucchiaio questo mi è capitato ogni volta che disegnavo ah vabbè, questo si, quando hai le mani occupate questo vabbè, quando ti scappa di cagare e giusto in quel momento il bagno è occupato e tu bestemmi tutti gli santi vabbè, è un classico, possiamo dire che è un classico dai, è capitato almeno una volta nella vita a tutti voi cioè, a chi non è mai capitato una cosa del genere che vuoi sfondare la porta vuoi prendere la persona che sta nel bagno e buttarlo fuori quante volte e ogni volta mi capita di andare in quel bagno freddo dove non c'è nemmeno il termosifone porca di quella putta qua ci vuole una censura abnorme ma andiamo alla prossima compilation tutto il dolore, mamma mia, ma la sento dentro il dolore anche se più che dolore è incazzatura, ecco prendi le uova, le sbucci e ogni volta succede questo che viene sbucciato alla perfezione mamma mia, qua altro che dolore mi viene voglia di prendere l'uovo e sbatterlo da qualche parte lanciarlo da qualche parte con tutta la violenza che ho nel corpo oddio i piccioni, e cosa c'entra? questo non mi è mai successo per fortuna non mi è mai successo che un piccione mi cagasse addosso per fortuna, oh, su questo sono stato fortunato c'è da dire, ok, accendi vabbè, ma lui deve essere deficiente per far cadere tutti i fiammiferi lo vedi dove apri il pacchetto dei fiammiferi? e poi si usa l'accendino fino a prova contraria questo mi è successo però è successo ogni tanto con la carta del panino ok, metti il sale e anche questo è mai successo perché non uso la saliera così uso quello del barattolo standard prendi la mano, prendi il pizzico di sale e lo metti sopra bisogna controllare se è chiuso o meno qua devi essere deficiente per fare un errore del genere poi sai che è buono, l'uovo salato questo non è mai successo questo non mi è mai successo che la linguetta della lattina si togliesse del tutto senza aprire la lattina ma è successo anzi ogni volta lo tolgo io perché non riesco a bere vabbè, questo abbiamo detto che a me piace un casino pestare la merda madonna quante volte è successo soprattutto davanti alla scuola mi è successo che pestavo una merda e si sentiva una puzza poi Cristo poi non vedevo l'ora di tornare a casa perché poi me lo dovevo tenere per tutta la giornata la merda sotto la scarpa e non avevo alcun modo per toglierlo cioè la cosa più incazzosa che tu rimani con quell'ansia che non vedi l'ora di scappare da quella scuola poi no, vabbè questo forse mi è capitato pochissime volte poco o niente ma pisciare intorno alla tazza e non centrare il buco è un classico cioè dei maschi è un classico noi andiamo così a cazzo di cane pisciamo ma questo quante volte è successo dai è successo un paio di volte forse ultimamente o hanno aggiustato hanno aggiustato le confezioni perché da un paio d'anni a questa parte si aprono tranquillamente vado questo o questo è successo sempre no, questo no del latte pestare i lego no fortunatamente non ho mai pestato i lego però una cosa simile mi succede con le scarpe di mia sorella che li trovo sempre davanti puntualmente ci devo cadere vado questo del tempra matita sempre è successo soprattutto con le matite cinesi con le matite cinesi sempre è successo che appena temperavi si toglieva la punta quella maledetta punta questa del limone è mai successo questo del chiodo è mai successo non sono così imbecile da darmi una martellata sul dito questa della cola cola non a questi livelli è mai successo una cosa simile no, la pellicina che palle che odio no, no ma mamma mia per fortuna che non mi è mai successo per fortuna che non mi è mai successo una cosa del genere se no sai quanti telefoni avrei buttato allora alcune cose devo dire che mi sono successe altre cose sono un po' o improbabili o quelle cose che se accadono accadono proprio per casualità ecco tipo quello dell'acqua succede per casualità anche se prima quando utilizzavo i bicchieri mi capitava spesso che mentre mangiavo tipo sbagliavo a muovere il braccio o la mano e urtava il bicchiere e cadeva di tutto e di più mi capitava quando ero più piccolo non mi capitava sulla scrivania col telefono non mi capitava a tavola una cosa del genere mamma mia solo a vederli ste robe veramente sento il dolore dentro sento proprio quel dolore, quel magone dentro e spero che non mi capiti mai una cosa del genere se capita so già che mi incazzerei va bene detto questo io direi che possiamo chiudere qua con questo video scrivetemi nei commenti quale di questi video vi ha fatto sentire il dolore dentro mi ha fatto incazzare se volete altri video di questo genere lasciate tanti bellissimi like proprio sfondate il tasto like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto seguitemi su tutti i social possibili ed immaginabili che trovate in descrizione e detto questo noi ci vediamo alla prossima iscrivetevi al canale grazie